Intralot 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 è come questa sbarra è sempre più in alto e non vuole più scendere chi gioca con la sbarra chi gioca con Intralot non vuole più sbarra Intralot Ciao Ciao Ciao, io sono un espertissimo di Intralot ti posso dare un consiglio che stai giocando il fine settimana vero? è da giocare questo fine settimana e che ti sei giocato? Mi sono giocato a Fiorentina, Roma 2 Genoa, Cagliari, Over Udinese, Napoli 2 Marsiglia, Leone, X Everton, Manchester United, Gold Ma si Ma sei sicuro che vinci? Ma vengo Scusi Scusi permesso posso? No C'ho la zia a casa che Scusi C'ho la zia a casa che sta sta proprio male Stai dicendo aiuto Ti spiace Ti spiace Scusi posso? C'ho il nonno a casa che sa Scusi Nonno Scusi posso passare davanti No 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 Intralot Lady Vedi? Uno sportello solo per donne Scusi Scusi Bolletta Sai le bollette che arrivano ogni mese Ma Grazie Tanti grazie Scusi 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 Scusi